Torniamo in Italia. Allora, il professor Galli ha sentito, dice, va bene, insomma, che pensa di quello che ha ascoltato adesso? Penso che si tratti sicuramente di un approccio interessante, non ne conosco i dettagli, ma credo di averne in parte intuiti. Ci sono, credo, almeno una mezza dozzina, se non di più, di tentativi di sviluppo nella direzione di questo vaccino, del vaccino che ci servirebbe nei confronti di questo virus. Vorrei sottolineare che quello che hanno attualmente in mano i colleghi israeliani è al momento un modello che sta funzionando per qualcosa che non è un beta coronavirus, perché, ahimè, il virus della SARS-2, il virus responsabile della Covid, è un beta coronavirus, non sono beta coronavirus, ma credo che appartengono alla famiglia dei gamma e dei delta coronavirus, quelli della sottofamiglia dei gamma e dei delta, quelli invece dei polli. Ciò non è proprio irrilevante. Il primo e fondamentale elemento su cui ci si dovrà cimentare è capire se qualsiasi vaccino che venga prodotto con qualsiasi tecnologia, molti dei vaccini che si stanno per produrre vogliono essere vaccini che utilizzano l'acido nucleico direttamente dal virus come immunogeno, ma comunque se questi vaccini riescono ad essere effettivamente immunogeni e possono esserlo senza avere delle tossicità inaccettabili nei confronti dell'osso. Professore, ho bisogno, professore, scusi, abbiamo capito. Il tempo non lo gestiamo noi, nel senso che erano abituati noi addirittura ad alzare il telefono, fare la spesa quando volevamo, scegliere le cose. Oggi dobbiamo rapportarci a un tempo che non gestiamo. Però prima o poi, siccome arriverà la scienza a dominare questa situazione, avremo un vaccino. Ma intanto le voglio far fare... No? Arriverà.